Allora c'è un marocchino che va a tutti i suoi coinvolgimenti, allora entra, questi signori fa un giorno, io voglio lavorare perché io non lavorare, io ho bisogno di soldi, voglio lavorare, sta calmo, sta calmo, ora guarda ti annunci, fa guarda sei fortunato, c'è da fare due mesi, un lavoro qui vicino a Pesaro, bisogna fare il muratore, come, il muratore? No, 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 io non potrei fare il muratore, io il muratore, fare male schiena, poi ci metto a pesare, non potrei fare il muratore, va bene, ora questa, guarda ti annunci, mi fa va, oggi è un po' di giorno, fortuna tua, ci sarei da fare un mese e mezzo qui a Fano, l'imbianchino, come, il bianchino? Io non potrei fare il bianchino, perché io un bianchino ho allergia a vernice, io fare male schiena su scala, soffrire dei vertici, non potrei fare il bianchino. Va bene, allora questa, guarda, è fatta sentire, ma ha detto, no ma te, la vita tua, che cazzo ti piace fare? Io, io, piacere, sport e sesso. Ha detto, allora vedi che la pianta mi è fuori, agpetta il bianchingo, è fatta faccia? Ha, 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 la vita è fatta sì, hai, aimi finden, mio frag tutto era,